Dunque, i turchi, questo conferma quello che a me già risultava, e non soltanto a me, cioè che i turchi stanno lavorando seriamente per proporsi come mediatori. Il ministro degli esteri turco Cavusoglu è molto impegnato in questo, così come Erdogan e la diplomazia turca. Le parole sono misurate e colgono il punto, perché in realtà Putin ha il problema di come esce da una situazione che lo vede, come dire, in un vicolo cieco, perché Putin si è buttato in questa avventura sulla base di una serie di assunti che si sono rivelati tutti non veri. Ha sperato che gli americani ancora sotto lo schiaffo dell'Afghanistan non reagissero duramente, e invece ha reagito duramente. Ha sperato che ci fosse una divaricazione tra Stati Uniti e Europa, che non c'è stata. Ha sperato in una divaricazione tra paesi europei, più amici, meno amici, e non c'è stata. Ha sperato in una guerra lampo di 48 ore, 72 ore, ma insomma risolverla in poco. Un mese. Un mese e non è ancora finita. E adesso ha annunciato, ieri, che questa guerra finirà il 9 maggio. 9 maggio, come è noto, è anniversario della fine della guerra mondiale, cioè della guerra patriottica, e tutte queste cose qua. C'è tutta una simbologia di quella data per lui. Però se dici 9 maggio, a parte la simbologia, vuol dire che pensi che questa cosa qui, guerra lampo, non è più, no? Certo. Peraltro gli ucraini resistono in modo molto tenace, e sono anche riforniti abbondantemente per resistere in modo tenace, e di fronte a Putin c'è una sola strada. O vince militarmente, e va fino in fondo, ma per farlo deve alzare ancora di più il livello dell'escalation militare. Oppure? Oppure cerca una via d'uscita. Erdogan, e giustamente Erdogan va da Putin, e dice guarda, la dico così, caro Putin, qui bisogna costruire una via d'uscita, costruiamola insieme a te. Cioè Erdogan, capire, Maria Giovanna Maglie...